Dovremmo aprire oratori anche nei centri commerciali e dimostrare ai giovani che crediamo nelle loro capacità. A proporlo è l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che nell'incontro di inizio anno con i giornalisti tratteggia l'immagine di una chiesa che deve farsi più missionaria, confrontarsi con la realtà concreta e quindi andare incontro ai giovani laddove si trovano, siano strade, piazze o centri commerciali. Nosiglia ha inviato a un centinaio di personalità torinesi una lettera d'auspici per il 2012, incentrata soprattutto su tre argomenti, giovani, lavoro e immigrazione. Le sfide vere dei prossimi anni, sfide che anche la chiesa dovrà contribuire a vincere, dice Nosiglia, rilanciandone il ruolo di comunità stabile e strutturata, in grado di aiutare i giovani ma anche gli immigrati a ritrovare o costruire fiducia, senso di responsabilità e un ruolo attivo nella società. Concetti profondamente minati, dice Nosiglia, da nichilismo, consumismo, indebolimento dei ruoli genitoriali e dall'assenza di una dimensione religiosa profonda. E all'interno di questo quadro è importante, rimarca Nosiglia, che nella comunità cittadina ciascuno faccia la sua parte. Non si può semplicemente demandare o al comune o alla chiesa o alla parrocchia o diciamo alle cooperative sociali o ai luoghi che assistono a tanti poveri. E' il discorso fondamentale della carità, perché non si può dare per carità ciò che è dovuto per giustizia. Allora, ciascuno faccia la sua parte perché sia una comunità cittadina più giusta, più solidale e non sono parole vuote se ognuno si confronta col suo vissuto quotidiano. E infine l'Arcivescovo di Torino fa il suo augurio per il 2012, un anno che sarà ancora difficile ma che potrà servire a ritrovare, nelle parole di Nosiglia, uno stile di vita più sobrio e attento. Dobbiamo acquisire uno stile di vita familiare, sociale e personale diverso, più sobrio, più attento quindi anche al problema della solidarietà, ma anche all'uso dei soldi, all'impegno proprio di gestire le nostre piccole o grandi risorse che abbiamo a servizio del bene comune.